Il progetto di Elon Musk spaventa il governo e i grandi gruppi bancari. Musk, infatti, ha ideato un nuovo sistema di investimenti segreto che ha già reso centinaia di persone molto ricche. Buongiorno, sono Elon Musk, fondatore della Fuffa Guru Inculator Ltd. Mi conoscete perché ho fondato la Tesla, che produce macchine elettriche che prendono fuoco facilmente. Ho acquistato e quasi fatto fallire Twitter, chiamando anche X, porco Dio. Ho creato SpaceX per spedire ricconi nello spazio ad Katsumkanis. Oggi vi parlo del mio software per diventare ricchi in tre o quattro mesi. Acquistate per 300 euro il programma che ho chiamato Fuffa Guru for You e non ci farete un cazzo. Però io diventerò ancora più ricco per fare altre cazzate e voi rimarrete poveri. Dio cane, compra Fuffa Guru for You e l'inculata la prendi ancora tu.